Incendio a San Zeno, sulla strada E. Le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'azienda orafa Coar, specializzata nella produzione di argento. L'allarme è partito poco prima delle 20 della serata di giovedì. Sul posto si sono portati tre mezzi dei vigili del fuoco di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione tutta da confermare, l'incendio si sarebbe sviluppato da un bagno galvani. Un altro incendio, sempre nella stessa azienda, si era sviluppato nel febbraio 2015, originatosi proprio nei bagni galvanici. Allora i danni furono ingenti. Il lavoro dei vigili del fuoco è durato a lungo.